Sulla ristrutturazione di piazza Andrea Costa, l'amministrazione comunale dovrebbe tener conto di due esigenze contrapposte. Quelle degli operatori di mercato, che premano perché i lavori vengono ultimati al più presto, e quelle della storia della città, di cui si sono fatti portavoce un gruppo di cittadini che in breve ha raggiunto le 180 unità ed è in costante aumento. Procedere in fretta significherebbe non condurre a fondo le indagini archeologiche preventive, comprese nel progetto di rifacimento della pavimentazione, e perdere quindi un'occasione unica che, chissà, se si ripresenterebbe tra cento anni e forse più. Certo è che confrontare le esigenze economiche delle famiglie dei commercianti, pressanti ed incombenti, con quelle più labili ma non poco significative della cultura, appare un problema non certo facile da risolvere, che comunque l'amministrazione comunale avrebbe dovuto impostare fin dall'inizio. Che si trattasse di un'area di grande interesse archeologico lo si sapeva, e quindi si doveva impostare un'indagine significativa fin dal momento della redazione del progetto, magari spostando l'intero mercato in un'area vicina come l'ex area Montevecchio e quella antistante la rocca malatestiana, sacrificando per un certo periodo i parcheggi. Dopo un breve periodo di disorientamento, la clientela avrebbe ritrovato i propri fornitori abituali e i disagi sarebbero stati limitati. Ora invece il mercato è costretto ad operare tra benne, scavatrici, cumuli di terra e recensioni, che restringono non poco lo spazio a disposizione. Ora la necessità di condurre le indagini archeologiche a fondo è stata condivisa dal comitato che si è formato condividendo l'appello dell'archeologo Gabriele Baldelli, il quale sollecita il sindaco a tener fede al proprio impegno di voler valorizzare la romanità di Fano, verificando ciò che si nasconde sotto piazza Andrea Costa. È una urgente necessità della cultura a Fano, perché c'è un'occasione irripetibile di avere un'area aperta alla luce del sole che poi verrà richiusa con una colata di cemento. Quindi siamo in un'area particolarmente interessante dal punto di vista archeologico e quindi sarebbe veramente un peccato non andare a fondo secondo appunto quello che il comitato ha proposto all'amministrazione comunale. Che cosa si può fare dato che già un settore è stato ricoperto mentre il secondo settore è ancora in atto per lo scavo? In questo secondo settore siamo in un'area importantissima, perché è quell'area in cui potremmo verificare l'ipotesi della presenza del cardo massimo su cui è stata impiantata la città, secondo l'ipotesi del professor Nereo Alfieri, seguita da tutti gli archeologi da 50 anni. Cioè il cardo massimo della città sarebbe passato sotto via Galeotto Malatesta e sotto il mercato del pesce, quindi proprio nel settore che ora è aperto. Ed è questa una delle due questioni dal punto di vista scientifico importanti e aperte della topografia archeologica fanese. La prima è quella dell'introvabile basilica di Vitruvio, la seconda è quella dell'impianto urbano, del cardo massimo quale fosse. Ecco, a questo appello Baldelli hanno aderito anche tanti uomini di cultura, tanti professionisti, tanti storici della città di Fano, oltre 180 firme, tra cui anche esponenti veramente prestigiosi. Sì, quasi tutte le associazioni culturali della città e tra ieri e oggi mi sono già giunte alcune adesioni di illustri docenti di archeologia delle università di Bologna, Macerata e di altre.